Per Giallo Carta, i sei migliori colpi, Amore indelebile, un racconto di Francesca Santi. Legge Luca Violini. La donna era distesa bocconi sul pavimento di marmo della biblioteca. Indossava ancora la gonna del tailleur e un paio di Mary Jane di vernice, ma il busto era nudo e l'enorme tatuaggio sulla sua schiena cozzava col suo aspetto da maestrina. Il commissario Ernesto Toti osservava i ragazzi della scientifica appoggiato a una colonna in attesa di un esperto chiamato a dare risposte che il laboratorio non poteva fornire. Toti soffriva ogni flash, maledicendosi per aver assecondato il suo oculista ed essersi quasi accecato ficcandosi nelle palle degli occhi le sue prime lenti a contatto in attesa degli occhiali nuovi. Ma nonostante il disagio controllava il portone in mogano, aspettandosi che da un momento all'altro si spalancasse per far entrare una petulante psicologa in chanella. Toti si era già preparato a sorbirsi la solita tiritera sulle maschere che ognuno indossa in società. Perciò fu sorpreso quando a presentarsi fu un ragazzino, con le braccia ricoperte da un intreccio di tatuaggi colorati e uno skate in spalla. Il giovane si accovacciò di fianco alla vittima e iniziò ad annuire come se stesse leggendo una notizia con cui si trovava completamente d'accordo. Il commissario lanciò un'occhiata a Licia Catalano, il nuovo acquisto della squadra mobile, che girava per la biblioteca come una trottola, facendo svolazzare la sua lunga coda di cavallo. Torchiava tutti i presenti, trascrivendo sul suo blocnotes ogni informazione con una pignoleria maniacale. Toti sorrise. L'entusiasmo della gioventù lo metteva sempre di buon umore, ma indugiò troppo a lungo sulle sue labbra carnose che scandivano con lentezza ogni domanda e quando lei lo sorprese a contemplarla, lui avvampò e le voltò le spalle per raggiungere il giovane tatuato. «Un commissario Ernesto Toti, tu devi essere l'esperto», disse tendendogli la mano. Nel pronunciare la sua qualifica storse il naso, come se fosse stato costretto a dire una parolaccia controvoglia. Ma il ragazzo non alzò neppure lo sguardo dalla schiena del cadavere. La musica assordante raggiungeva il commissario dalle cuffie del suo iPod, tanto che riuscì a indovinare la canzone, Nebel dei Rammstein. Sua nipote andava pazza per quella robaccia. Toti incrociò le braccia e cominciò a tamburellare il piede sul pavimento. «Sembra il coniglio di Bambi», disse il ragazzo guardandolo per la prima volta. Aveva un cappello di lana calato sui capelli troppo lunghi e gli occhi di un turchese surreale in tinta coi tralci fioriti che gli ornavano le braccia. «Come prego?» «L'amico di Bambi, Tipete o come cavolo si chiama, il coniglio che batte il piede in terra come uno sesso. Mi ricorda lei». Toti si fece rosso in viso, ma si trattenne da rispondere a tono a quel moccioso. «Potrebbe essere mio figlio», si disse. «La tua carriera deve essere stata folgorante, visto che hanno contattato proprio te, signor...» Il giovane si tolse le cuffie dalle orecchie. «Jonathan Russo, faccio il tatuatore da sedici anni e ne ho trentuno. Ha pianto?» Il commissario era così sorpreso che capì il perché della domanda solo quando si specchiò sul pavimento lucido. Sembrava che tutti i suoi capillari fossero scoppiati e che le sue pupille navigassero in un mare carminio. «Ah, maledette lenti!» Borbottò. Russo si alzò e si rivolse a un poliziotto della scientifica dalla testa abbronzata e con pochi capelli radi che spuntavano dalla cute come germogli in un campo. «Avite trovato una specie di pettine accanto alla vittima?» Il poliziotto annui e gli mostrò una busta etichettata con un grosso numero due tracciato in rosso, contenente un pettine in madreperla con un manico in legno. «Immagino che il reperto uno sia un bastoncino di ferro!» La gente annui di nuovo, mostrandogli un'altra busta. «Ah, come pensavo! La prassi è identica all'altro omicidio!» «Quale altro omicidio?» chiese Toti sgranando gli occhi e richiudendoli subito per il forte bruciore. «Un paio di giorni fa ho dovuto esaminare il tatuaggio su un altro cadavere a mal bianco e anche se non sono il tizio di True Detective, sono sicuro che la mano sia la stessa». «Da cosa lo deduci?» Russo indicò il disegno inciso sulla pelle candida della vittima. «Guardi l'esecuzione. È perfetta». Il commissario si sforzò di Collier nella bellezza, ma per lui quella era solo la testa di un demone che ghignava, per di più disegnata in modo approssimativo. «Vedo», disse senza convinzione, «il tatuatore ha utilizzato la tecnica Samoana. Qui non la usiamo perché è troppo dolorosa, ma credo che sia questo il motivo per cui l'ha scelta. Voleva far soffrire questa donna». «Anche l'altra vittima è stata marchiata con la stessa tecnica». «Tatuata», lo corresse Russo. «E ad arte, direi, guardi il soggetto, è una Ania». «Una che?» Jonathan sorrise. «Una maschera del teatro? No». Toti corrugò la fronte. «Non ha mai sentito parlare del teatro popolare giapponese?» domandò Russo. «Il tatuaggio raffigura un demone femminile di una famosa leggenda». Toti si strinse la radice del naso tra pollice e indice. «Non capisco una cosa. La schiena è asciutta. Un collega ha ipotizzato che questo tatuaggio la donna ce l'avesse già quando è morta ed è una strana scelta per una bibliotecaria di provincia. Non trovi». Jonathan assunse un'aria grave e indicò un corno del demone. Lì, la pelle è arrossata della parte che l'assassino ha realizzato quando la donna era ancora viva. Si vede che il tatuaggio è fresco, un lavoro di pochi giorni fa, mentre il resto, beh, credo che abbia terminato il disegno post-mortem. Il commissario chiusi gli occhi e il buio gli regalò qualche istante di sollievo. Quando li riaprì, incontrò lo sguardo di topazio del tatuatore. «Posso andare?» chiese Russo rimettendosi le cuffie. «L'altro cadavere è già stato interrato». «Che ne so?» «Faccio una chiamata al commissariato di Malbianco. Tu vieni con me». Jonathan lo seguì con aria rassegnata e si sedette docile al posto del passeggero, tenendo lo skate tra le gambe e guardando dallo specchietto quella caricatura di ispettore di altri tempi che agitava le braccia come un indiavolato mentre berciava al telefono. Il picchiettio dei tacchi di licia fece chiudere bruscamente la chiamata a Toti. «Aggiornami, catalano», disse il commissario ancora prima di voltarsi. La ragazza sfogliò il suo blocco all'indietro per rileggere la prima pagina ad appunti e gli parlò in tono monocorde come se stesse recitando una poesia a memoria. Gloria Spinelli, anni 45, bibliotecaria alla Giovanni Pascoli da Venti, ha vinto un concorso subito dopo la laurea in archivistica ottenuta col massimo di voti, lavoratrice indefessa, condotta irreprensibile, non aveva mai preso un giorno di ferie né di malattia fino a due settimane fa quando ha chiesto un permesso per pare da testimone al matrimonio della cugina, ma la cerimonia non è mai arrivata. La Spinelli è incensurata, non ha mai preso neppure una multa, era nubile, viveva con i suoi tre gatti. Irritato dall'inutilità di quelle informazioni, Toti imprecò spalancando con violenza lo sportello. «Tira il fiato e sali», le ordinò. «Ha urgentemente bisogno di un collirio e di un calmante», disse Russo non appena il commissario occupò il posto di guida. «Ho bisogno che questa giornata finisca», disse mettendo in moto. «E che tu mi dica di più su questa... Ana...enne...annia!» La leggenda parla di una ragazza che si invaghì di un bel monaco. Per scherzo lui le promise di sposarla e quando lei si rese conto che lui le aveva mentito, si trasformò in un mostro sputafuoco e lo arrostì. Bella stronza. Anche lui non scherza, però. Seguì un imbarazzato silenzio che il commissario interruppe con un colpo di tosse. «Anche l'altra vittima è una donna». «No!» «Un panzone cinquantacinquenne che vendeva aspirapolveri a porta a porta». «Perché tanto astio?» «È mio padre». Toti inchiodò. «E sei stato chiamato tu come esperto. Sei un familiare!» Jonathan si strinse nelle spalle. «Ma che? Lo conoscevo solo di nome. Sono stato un errore di gioventù, ma mia madre ha capito subito che non c'era futuro con uno che portava ancora le ghette negli anni Ottanta. Così gli ha dato il ben servito prima che nascessi. Come si chiamava? Osvaldo Nucci. Catalano, fai una ricerca su questo Nucci e vieni al rapporto non appena trovi qualcosa di interessante. «Sì, commissario», disse la ragazza precipitandosi fuori dalla volante, lasciando dietro di sé il suo profumo di mughetto. «È carina», commentò Jonathan sporgendosi dal finestrino per fischiarle dietro il suo apprezzamento. Toti gli dette uno scappellotto. «Tua madre non ha mai preteso nulla da questo signor Nucci?» «Semmai il contrario. Mia madre è il vicequestore». Toti si stropicciò gli occhi doloranti e imprecò fra i denti prima di rimettere in moto. «E il tatuaggio è simile?» «Lo vedrà», disse lui, indicandogli una struttura cubica che necessitava di una ritinteggiatura come un pesce dell'acqua. Il medico legale li aspettava sulla porta con un'espressione da pitbull a digiuno. Grugnì un saluto e si avviò per un lungo corridoio che portava una stanza con un lettino di metallo occupato da un corpo e cinque celle frigorifere. «E lui?» chiese l'ispettore, indicando i piedi callosi che spuntavano da sotto il lenzuolo giallognolo che aderiva al corpo del cadavere come un sudario. «No, è lui!» rispose il medico aprendo la prima cella in basso a sinistra. L'uomo era supino, aveva gli occhi sbarrati e la bocca spalancata, tanto che Toti non si sarebbe meravigliato che si fosse messo a gridare. Aveva basette lunghe e folte, oltre a un paio di baffoni che sarebbero stati fuori moda anche trent'anni prima. e la sua pancia sembrava quella di una gestante al nono mese, prominente, liscia, dura, ma tatuata. Toti si portò una mano alla bocca. La tarantola che gli copriva il ventre era così realistica che gli sembrava di distinguere ogni pelo sul suo dorso. «Ah, che schifezza! È un capolavoro, in realtà!» «E cosa sta a significare?» «Bah, pazienza, astuzia! Questo è Ictomi, il demone dell'inganno secondo i Lakota, ma il ragno è anche un predatore spietato che paralizza la vittima e la divora da viva. Non c'è un significato univoco». Il medico ricacciò il morto nel buio della cella. «Avete finito», disse. Un'affermazione, non una domanda. I tre percorsero in fila indiana allo stretto corridoio e una volta fuori Jonathan si infilò le cuffie, posò lo skate a terra e disse «Ci vediamo, gente!» Il commissario e il medico lo seguirono con lo sguardo finché non sparì dietro la prima curva. «L'esperto!» esclamarono in coro. Toti visualizzò il suo monolocale. Avrebbe liberato i suoi occhi da quegli strumenti di tortura. Li avrebbe innaffiati con un buon decongestionante. Si sarebbe piazzato sotto il getto d'acqua bollente e poi si sarebbe buttato sul letto completamente nudo. È una dormita di otto ore. Non gliel'avrebbe tolta a nessuno, ma il cellulare interruppe la perfetta sequenza di eventi proiettata in loop nel suo cervello. «Mi è venuta in mente una cosa», disse una voce dall'altro capo. «Scusi, ma chi parla?» «Jonathan! Jonathan Russo!» «Spara!» «Quei disegni io li ho già visti nello studio di fortuna a Valle Bruma in via Gridellini 17». Il commissario sospirò. Si sentiva come se gli avessero inciso la pupilla per poi cospargerla di sale, ma l'indirizzo era di strada e doveva verificare. Toti guidò occhi stretti. Il sole esplendeva, eppure gli sembrava di avanzare nella nebbia. Parcheggiò in una strada chiusa, davanti a una billetta in miniatura, sommersa da una cascata di tralci di glicine. Dovette farsi largo tra la vegetazione per trovare la porta. «Signor Fortuna!» domandò fermandosi sulla soglia. La ragazza al bancone alzò lo sguardo. Era alta e decisamente troppo magra, con un neo da diva sul labbro, una coda di cavallo che le sfiorava il sedere e gli occhi mortificati da troppi strati di cagial. Ogni centimetro di pelle sotto il suo mento era ricoperto di inchiostro. «Qui non c'è nessun signor Fortuna!» disse soffiandosi via un ciuffo dalla fronte. Solo Fortuna Cosmi. «Ah, mi scusi, avevo male interpretato. Sono qui per i disegni rubati, alla buon'ora. Vi ho chiamati più di un mese fa e il cafone balbuziente che mi ha risposto sosteneva che non poteva mandare nessuno per qua quattro fo fogli. Ha detto proprio così qua quattro fo fogli. Quattro? Tre in realtà, ma tra le mie creazioni migliori. una maschera giapponese, un ragno e un nio mano. Incredibile che il tizio che ho chiamato abbia preso nota. Un nio cosa? La ragazza apri bocca per rispondere, ma lo squillo del telefono di Toti la bloccò. Il commissario alzò l'indice per metterla in attesa e annui durante tutta la durata della chiamata. «È una specie di bracciale fatto di triangoli?» domandò dopo averla chiusa. Fortuna incrociò le braccia e mise il broncio. Un po' riduttivo. È un motivo potente che simula la dentatura di uno squalo e ha svariati significati. Ovvero? Potenza e adattabilità per alcuni, brutalità feroce per altri, ma la verità è che è un simbolo di protezione. Una leggenda maori racconta che una donna venne morsa da uno squalo durante una nuotata. Lui era il suo animale totem, ma non l'aveva riconosciuta. Così, quando lei gridò il suo nome, lo squalo si scusò e le disse che grazie ai segni che le aveva lasciato non si sarebbe mai più sbagliato. Ebbene, il suo disegno denso di contenuti è stato inciso su un altro cadavere. La ragazza lasciò cadere le braccia lungo il corpo. «Cadavere? Un altro?» ripetì con aria smarrita. Toti chiuse gli occhi, godendosi un attimo di sollievo e quando li riaprì vide fortuna che gli porgeva un Kleenex. «Credo che dovrebbe farsi vedere», disse. «Sta piangendo sangue come la madonnina di Civitavecchia». Toti si tamponò la guancia col fazzoletto e restò a guardare le chiazze rosse che si allargavano sulla carta finché lei non lo riscosse. «L'ho avuto anch'io quel problema», disse Fortuna passandosi il mignolo sul bordo dell'occhio. «Quella piccola sacca di sangue che ha proprio qui deve essere una lesione alla cornea. Una volta una lente mi si è spezzata in due nell'occhio e il risultato è stato lo stesso». Toti imprecò sottovoce. «Resti a disposizione», disse facendosi largo fra i tralci di glicine. Non appena salì in macchina il commissario si guardò nello specchietto e sospirò alla vista dei suoi occhi di brace così gonfi che sembravano sul punto di scoppiare. Vedeva il mondo come se fosse sott'acqua ma sapeva che togliendosi le lenti sarebbe stato peggio. Era una talpa senza i suoi occhiali e i suoi occhiali nuovi non sarebbero stati pronti prima di lunedì. Partì a razzo verso la scuola elementare di Calle Nebula dove una maestra era stata assassinata con le stesse modalità delle altre due vittime. Stavolta il cadavere era girato su un fianco e una fila di denti di squalo sembrava zannargli la pelle. La donna indossava ancora una lunga gunna morbida e un paio di francesine ma era nuda dall'ombelico in su. Toti le girò attorno mentre i flash della scientifica gli tormentavano gli occhi agonizzanti e pensò che quella signora era il classico tipo che ti dimentichi subito un po' come la bibliotecaria. Si vergognò di quell'analisi e ancor più quando il suo sguardo incontrò il notevole posteriore del catalano china su un bambino singhiozzante. Il commissario si passò una mano sul volto stanco e quando riaprì gli occhi Licia si trovava proprio di fronte a lui. Il bambino stava uscendo accompagnato da un altro agente che dava loro le spalle. Sta bene commissario i suoi occhi fanno impressione. Lui annui. staranno meglio quando mi toglierò queste maledette lenti. Sai dirmi qualcosa su Nucci e sulla maestra? La ragazza annui. Osvaldo Nucci ha fatto il commesso viaggiatore per tutta la vita. Ha iniziato vendendo enciclopedie poi macchine del caffè e infine aspirapolveri. Era un tipo tranquillo l'unico screzio con la giustizia l'ha avuto col nostro vicequestore. La russo ha emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti a inizio carriera e lui l'ha sempre rispettato. Nucci si è sposato qualche anno dopo con una certa rosa sarri ma è rimasto vedovo presto. La coppia ha avuto tre figli. E la maestra cosa ha detto il bambino? Licia spogliò rapidamente il blocco e rilesse sottovoce le ultime righe di appunti prima di parlare. Il piccolo non frequenta questa scuola è il nipote della vittima tale Chiara Banti maestra da 40 anni. Sarebbe andata in pensione a fine anno la figlia è ragazza madre fa l'avvocato e le lasciava spesso il bambino. Tre persone molto diverse commentò l'ispettore fa un controllo. Un grido spezzò la sua frase a metà e un elegante signora in tubino e tacchi a spillo si precipitò strillando verso il cadavere. Un agente si frappose fra lei e il corpo e la donna si sciolse in un pianto dirotto sul suo petto. La figlia della vittima presumo disse il commissario. la donna alzò gli occhi su di lui sono Milena Dei dov'è Filippo? L'ispettore aggrottò la fronte e ridusse gli occhi doloranti a una fessura. Mio figlio specificò un agente l'ha fatto uscire disse Toti guardandosi attorno dov'è il ragazzino? I poliziotti sulla scena si scambiarono occhiate perplesse chi di voi l'ha accompagnato fuori? chiese il commissario spazientito un giovane con un marcato strabismo gli rispose balbettando noi siamo sempre rimasti qui Toti sbarrò gli occhi e corse fuori ma il parcheggio della scuola era deserto e solo le urla della signora Dei lo spinsero a rientrare. L'agente balbuziente aveva aperto uno scabuzzino trovando un suo collega nudo e col collo spezzato ha preso il bambino sussurrò Licia incapace di staccare lo sguardo dal morto la signora Dei svenne tra le braccia del poliziotto che la stava trattenendo e Toti desiderò emularla sentendosi perso per la prima volta nella sua carriera il mondo attorno si dissolse nella nebbia che gli offuscava alla vista poi la catalano gli strinse le dita e il peggio passò il bidello ha visto un uomo in divisa salire su una wrangler gialla ha detto che la targa era coperta da un adesivo ma ha visto dove era diretta verso campo cinerino gli disse Toti salì sulla volante partì a razzo rischiando di lasciare la catalano appesa allo sportello la ragazza balzò dentro a fatica e guardò in silenzio la strada finché il cellulare del suo capo non squillò prendilo dalla tasca e mettilo in viva voce lì c'ha ubbidì e la voce di fortuna irruppe nell'abitacolo mi è venuto in mente un dettaglio disse io non ho mai esposto in negozio i tre modelli che mi hanno rubato eppure il ladro è andato a colpo sicuro voleva proprio quelli tempo fa li ho usati per un seminario che ho tenuto a una fiera l'iscrizione costava cara ma hanno partecipato una decina di persone e tra loro c'era un tipo particolarmente incuriosito da quei disegni me lo descriva alto snello occhi d'un blu incredibile un gran bel ragazzo mi disse di avere quasi 30 anni e non ci credetti ne dimostrava dieci di meno aveva un roveto colorato tatuato sulle braccia e si muoveva in skate grazie signorina Cosmi disse il commissario accostando cosa fa? chiese Licia chiudendo la chiamata vai ad arrestare Jonathan Russo ma prima chiama la centrale e chiedi rinforzi e lei che farà? provo a rintracciare il suo complice sulla Wrangler corri la ragazza obbidì e Tote ripartì a manetta con le mani strette sul volante e la sensazione di aver appena nuotato in una vasca di sapone a occhi aperti il commissario percorse chilometri di strade e deserte e all'imbrunire finalmente rinunciò campo cinerino era alle sue spalle da una mezz'ora e della jeep non c'era nessuna traccia Toti posò la fronte sul volante e chiuse gli occhi solo per un momento si disse ma un potente colpo di claxon lo fece sobbalzare sul sedile ci mise qualche istante a capire che era stato lui a premerlo dopo essersi addormentato il commissario guardò il cielo cobalto attraverso gli occhi umidi poi restò a fissare la spia lampeggiante del telefono qualche istante prima di decidersi ad ascoltare il messaggio in segreteria era di licia la Wrangler è qui commissario il bambino non c'è e il russo è morto Toti sgommò sul selciato e fece inversione a U la Catalano gli aveva inviato il messaggio un'ora prima dunque i ragazzi della scientifica dovevano essere già all'opera il commissario infranse tutte le regole della strada tenendo il volante con una mano e il telefono nell'altra licia non rispose arrivato a un incrocio in mezzo al nulla Toti inchiodò c'era qualcosa che non gli tornava nell'intera faccenda digitò il numero della centrale e visualizzò l'uomo all'altro capo senza bisogno che si identificasse c'è centrale di di agente sono il commissario Toti lasci subito il centralino voglio che chiami la collega di Gloria Spinelli e che scopra se frequentava un uomo o se ha avuto un alterco con qualcuno negli ultimi mesi poi spulci la carriera della Banti e mi riferisca qualsiasi anomalia non è possibile che le loro vite fossero tutte casa e lavoro non chiami mi invii i risultati via messaggio il verde scattò ma Toti non ripartì chiuse la telefonata senza aspettare una risposta e si mise a sfogliare la rubrica febbrilmente in cerca del numero del vicequestore russo preparandosi a una chiamata molto più difficile della precedente vicequestore russo sono il commissario Ernesto Toti mi scuso per l'ora innanzitutto condoglianze vorrei sapere perché mi fa le condoglianze gli rispose lei irritata Toti pensò che fosse sconvolta dai recenti lutti per il suo ex compagno Svaldo Nucci e per suo figlio Jonathan la donna restò in silenzio per qualche istante prima di sbottare lei ha bevuto commissario si spieghi o la prima cosa che farò domattina sarà firmare un provvedimento disciplinare la nebbia lo avvolse del tutto e solo i clacson che strombazzavano nel sorpassarlo lo mantennero inchiodato alla realtà c'è stato un omicidio molto particolare in biblioteca l'esperto che è venuto a esaminare il corpo Jonathan Russo mi ha detto di essere suo figlio quell'esperto mi è stato segnalato per le sue competenze non c'è nessuna parentela tra noi ma il suo ex compagno quello a cui ha imposto un ordine restrittivo senta spero che il suo delirio sia motivato non so chi le abbia riferito queste sciocchezze sono sposata da 30 anni ma mio marito e io stiamo insieme dal liceo non ci è stato una spiacevole parentesi in un momento di crisi ma è finita senza drammi e non ho mai emesso un ordine restrittivo nei suoi confronti per inciso è un miracolo che mi abbia trovato dovevo partire oggi ma il mio volo è stato cancellato all'ultimo momento dunque chi mi ha fornito le informazioni su di lei pensava che non avrei potuto contattarla mormorò la russo restò in silenzio per qualche istante si schiarisca le idee commissario e mi richiami a mente fresca disse poi Toti ripartì col russo e due auto lo evitarono per miracolo strombazzandogli il loro disappunto gli occhi e la mente gli si annebbiavano sempre di più man mano che si avvicinava a casa di russo si aspettò di trovare un delirio nel vialetto ma c'era solo un'auto parcheggiata davanti al portone la Wrangler gialla che cozzava con l'austero condominio grigio dove il sospettato abitava Toti controllò i campanelli ma non trovò nessun russo un appartamento del quinto piano era l'unico a non essere contrassegnato da una targhetta e il commissario decise di controllare l'ascensore era fuori di servizio così l'uomo si apprestò ad affrontare la scalata incespicando a ogni scalino a causa degli occhi sempre più velati il bip bip del telefono lo raggiunse proprio davanti alla porta dell'appartamento anonimo Gloria Spinelli lite con giovane donna con cappello e occhiali scuri oggetto l'ossessione della defunta per l'uomo dell'altra Chiara Banti vent'anni fa ha fatto espellere un ragazzino per abusi su una compagna le aveva inciso a penna le sue iniziali sulla pelle Toti ebbe giusto il tempo di sorprendersi per la precisione e la chiarezza del suo goffo subalterno prima che il grigio virasse in nero e la sua bocca assaggiasse il tappetino di benvenuto davanti alla porta della presunta vittima quando il commissario tentò di riaprire gli occhi una fitta lo costrinse a sollevare le palpebre con cautela e non si sorprese più di tanto di trovare la catalano seminuda in braccio al suo esperto hai una bella cera per essere morto russo o qualunque sia il tuo nome disse Toti il ragazzo rise lo cambio spesso da quando la stronza della mia maestra mi ha fatto sentire un criminale a undici anni puoi chiamarci ancora jonathan e licia comunque ci stanno a pennello queste identità hai seviziato una bimba seviziato che parolone esclamò licia sollevandosi il baby doll e mostrandogli due lettere tatuate sulla coscia nessuno ha chiesto il mio parere avrei detto che lo volevo i due innamorati si scambiarono un lungo bacio e per un attimo il commissario temette che volessero spingersi oltre ma alla fine si staccarono e la ragazza lo guardò con un'espressione molto simile alla compassione è stato sfortunato commissario lei e il bambino siete danni collaterali dov'è il bambino assieme alla vera licia catalano e al vero gionata russo gli ho rubato il cartellino buffa coincidenza il cognome di mia madre il vicequestore non mi ha parlato di te ah certo per lei non sono mai esistito mi ha cagato nel mondo e poi dato via come un prodotto difettoso le ho dato una chance sa mi sono presentato alla sua porta e lei mi ha cacciato quasi fossi un venditore molesto come mio padre che razza di madre non abbraccia un figlio pronto a perdonarla resta il fatto che ha ammesso di aver avuto una relazione con l'uomo che hai ucciso ma non ha parlato mai di te il volto angelico di jonathan si contorse in una smorfia di rabbia e i suoi occhi blu persero il loro smalto perché mi ha cancellato dalla sua perfetta esistenza la troia mi ha seguito da lontano per un po' è venuto a trovarmi all'orfanotrofio in riformatorio in prigione e ogni volta mi guardava come se non si capacitasse di aver sfornato un fallimento come me jonathan posò la testa sul seno della sua ragazza che gli accarezzò i capelli con dolcezza l'avrei perdonata sussurrò ma lei mi ha respinto ancora così le ho consegnato un disegno il primo della serie il demone e le ho detto che avrebbe sentito parlare di me mi rifiuto di pensare che non sospettasse che l'assassino fossi tu ma non ti ha denunciato mettendo la parola fine alla sua carriera dunque un po' di bene te ne vuole lei dice chiese jonathan fissandolo con uno sguardo lucente di speranza ne sono certo sei stato scaltro ma visto che sei stato tu a rubare i disegni di fortuna perché mi hai mandato da lei speravo che la considerasse una sospettata ma lei è più sveglio di quanto sembra si vede da come sbirciava le tette della mia ragazza nonostante gli occhi da zombie cosa pensavi di fare perché hai ucciso tre persone e sequestrato un bambino jonathan fece spallucce e lanciò un'occhiata adorante alla falsa licia volevo sistemare le cose tra noi e sparire punendo tutti quelli che si erano messi in mezzo dall'ultimo al primo volevo dimostrare che il nostro amore è invincibile indelebile come i migliori tatuaggi tonti aprì la bocca fissò l'assassino con l'espressione di un pesce in una boccia tutto qui jonathan fece scendere licia e si alzò cominciando a camminare su e giù per la stanza avanti commissario è semplice è logico osvaldo quel grassone mi ha adottato un po' per senso di colpa e un po' perché era troppo pigro per fare un terzo figlio ma io non ero quello che si aspettava e lo facevo uscire di testa è andato talmente tante volte a sincerarsi che licia stesse bene mentre io ero in riformatorio prima e in galera poi che l'ha convinta che ci fosse qualcosa di speciale tra loro e se l'è portata a letto licia abbassò gli occhi e finse di esaminarsi le unghie smaltate se la signorina era consenziente non è stata violenza carnale sì invece osvaldo era un manipolatore ha tessuto la sua tela per imprigionarla e poi l'ha divorata era uno che fingeva di sgobbare e che aveva una relazione in ogni città un imbarazzo tale per mia madre da spingerla a pagarlo per restare fuori dalla sua vita questo non gliel'ha riferito il vicequestore se avesse una minima speranza di uscirne vivo le direi di fare un controllo Toti non avrebbe mai pensato di morire per mano di qualcuno che gli dava del lei e gli venne da sorridere lo trova divertente lui ha plagiato la mia piccola ma lei l'ha capito non appena mi ha rivisto continuò Jonathan accarezzandole la coscia e la bibliotecaria chiese Toti Gloria faceva volontariato in prigione abbiamo avuto una storia e lei non voleva rassegnarsi al fatto che fosse finita ho dovuto rassicurare Licia dimostrarle che per me era stato solo uno sfogo per la maestra non c'è bisogno di spiegazioni ci ha separati intervenne la ragazza e si è accanita contro di lui inventandosi accuse false affinché gli aumentassero la pena gli ha strappato a morsi la vita resta mia madre concluse Jonathan volevo risparmiarla ma non mi ha lasciato scelta è stata lei a rendermi ciò che sono e non ha voluto rimediare avrò bisogno di un altro disegno lo ruberemo a fortuna più tardi disse Licia dobbiamo eliminare anche lei si è ricordata di te allora sono tre i danni collaterali lei non doveva capire commissario il bambino non doveva riconoscere l'ex allieva della nonna che era andata a trovarla spesso negli ultimi tempi per conquistare la sua fiducia disse Jonathan andando un buffetto a Licia e fortuna non avrebbe dovuto ricordarsi la tua faccia ma se tutto fosse filato liscio cosa avreste fatto domandò Toti c'è bisogno di chiederlo saremmo spariti liberi dai nostri fardelli e voi avreste avuto la vostra colpevole avevo nascosto un bel po' di prove nel laboratorio di fortuna tempo sprecato Toti non ebbe cuore di dirgli che il loro piano era una bagnarola che faceva acqua da tutte le parti e che presto sarebbe affondata si agitò sulla sedia sfregando il nastro adesivo che gli bloccava i polsi contro una scheggiatura sullo schienale Jonathan afferrò un pesante fermacarte sulla scrivania e se lo rigirò fra le mani era una grossa roccia di ametista che dopo un'attenta analisi ritenne adatta al suo proposito il ragazzo alzò il braccio per sferrare il colpo ma il commissario riuscì a spostare il peso su un fianco e a evitarlo cadendo il nastro si spezzò e Toti schizzò verso la porta l'icia gli fu addosso in un baleno ma lui se la scrollò dalle spalle scuotendosi come un cane bagnato e arrancò alla cieca fino al bagno dove si rinchiuse a doppia mandata prendi il martello gridò Jonathan il commissario poggiò entrambe le mani sull'unica barriera che lo divideva dall'assassino e prese fiato ma dovette subito coprirsi la bocca per proteggersi dal fetore che aleggiava nella stanza gettò un'occhiata alla vasca e trattenne a stento un conato di vomito due corpi gonfi galleggiavano in un'acqua ormai verdastra e il loro sguardo opaco e accusatorio lo spinse a indietreggiare Toti andò a sbattere contro la cesta dei panni che rotolò fino alla porta sputando fuori un bambino avvolto negli asciugamani sporchi le lacrime che sgorgarono dagli occhi di Toti furono come due pugnalate nei bulbi oculari ma il dolore gli divenne sopportabile non appena il piccolo si mosse e cominciò a frignare vieni qui piccolo ti proteggo io ti chiami Filippo vero? disse tendendogli le braccia il bambino gattonò fino a lui e si rannicchiò in un angolo mettendosi il pollice in bocca Toti decise che di quella regressione da shock si sarebbero occupati gli psichiatri e che il suo compito fosse solo quello di mantenerlo in vita affinché non mancasse una seduta il commissario si guardò attorno in cerca di qualcosa da utilizzare come arma frugò nel mobiletto sotto il lavandino e nella credenza dietro lo specchio mentre i colpi di martello si facevano via via più decisi e alla fine trovò qualcosa che faceva al caso suo un bastoncino di metallo come quello che Jonathan usava per tatuare le sue vittime con la più dolorosa tra le tecniche esistenti Toti Toti lo impugnò e attese davanti alla porta la serratura saltò la porta si aprì e Jonathan levò il martello sopra la sua testa ma una frazione di secondo prima che potesse assestare il colpo il commissario gli trafisse un occhio con l'arma del delitto Licia gridò così forte da fargli vibrare i timpani e si chinò sul corpo esanime del suo ragazzo per raccogliere il martello fu così rapida che Toti ebbe solo il tempo di alzare le mani per proteggersi il volto ma due spari rimbombarono nella stanza e la ragazza restò immobile per un istante prima di cadere sul corpo del suo amato la stanza ormai era una massa nebulosa per il commissario ma una voce inconfondibile gli rivelò l'identità del suo salvatore sta sta bene commissario Toti avanzò tentoni e non riuscì a vedere l'espressione terrorizzata del suo subalterno la la porto da uno oculista subito la lente si è spezzata in quattro frammenti nell'occhio destro e in tre nel sinistro dichiarò l'oftalmologo esaminando il fondo dell'occhio succede una volta su dieci milioni Toti non commentò adesso facciamo un bel lavaggio oculare per eliminare i frammenti residui le prescrivo un collirio antibiotico e assoluto riposo ma Toti non lo ascoltava più stava già dormendo oculare 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 i frammenti residui